Ladies and gentlemen, all young people, this is showtime, a belli de casa, a belli mia, come state? Tutto a posto? La prima cosa volevo salutare e ringraziare quelle migliaia di persone che nelle passate 21 giornate di campionato non hanno avuto il coraggio e la voglia o il motivo di poter parlare e di conseguenza si sono sfogati proprio l'altro giorno. Ciao Rosiconi! Ciao belli! Volevo anche salutare e ringraziare tutti gli indignati che mi hanno insultato, non sto parlando di Ultras, quello è un altro mondo che voi, voi, tifosi da tastiera non sapete nemmeno cosa vuol dire, appunto ero stato criticato per l'inizio del campionato, ma io, ve li faccio, a me non ce ne ha fatto uno cazzo di un campionato, uè figa ma scherziamo, uè il campionato ma ce ne frega un cazzo, quei Lombardiani è un macello, uè pota noi, vabbè loro sono gli unici che, se qualcuno vuole prendere questo per sfogo per attaccarmi andasse a vedere quello che dico sugli Ultras dell'Atalanta, quindi anche qui parlo di gentaccia, di gentaglia, di povera gente, ok? Proprio di squiglie, di robetta. Uè pota, ma questo se ne frega del campionato, poi per arrivare, uè ma rispetto i miei morti, uè ma a me che ce ne frega, uè ma di che uè ma al campionato senza spettatori, senza niente non vuol dire che assi, l'altro ieri, uè dai coglioni, ci avete pure voluto iniziare, a brutto, ad e qua, ad e là, ti e poi se non state attenti per i bianchi, ma come prima al campionato, eh, uno addirittura mi ha scritto, eh, sono proprio contento di vederti soffrire perché quella volta che hai detto che il Napoli era uguale al Brescia, ma rimortacci tua, ma rimortacci, senza poi parlare di qualche tifoso dell'Atalanta o addirittura Juventini o addirittura da tifosi del Milan, ma che parlate, ma cosa parlate, ma cosa parlate, per non parlare poi di un altro, un signore, proprio un bella persona che alla fine saluta mediaconale, infami, infimi, ignobili, fate schifo, ecco cosa fate, siete proprio il peggio dell'italiano medio, il peggio proprio del liquame, fate proprio schifar cazzo, ve dico proprio questo, e poi, se voi andate anche a vedere i miei video, le mie diretti, io ho detto basta che inizio il campionato perché c'è bisogno per l'economia, c'è bisogno per le persone che lavorano non all'interno del mondo, non parliamo di calciatori, ma parliamo di tutte le altre persone che stanno all'interno del mondo calcio e di conseguenza non si toglie, però dato che voi siete celebrolesi e vi piace fare i perbenisti, gli indignati, però appena giocate a Napoli 15 milioni di persone sono andate per strada a Roma, avete fatto la doppietta del gioco, avete pure iniziato a piac per culo quello che fino all'altro giorno volevate come il vostro futuro presidente, ragazzi ma di che cosa parliamo? Ma di che cosa parliamo? Ma veramente? Cioè ma veramente c'è stata piac per culo a noi perché abbiamo perso dopo 21 partite? Ma veramente voi? Sì proprio voi c'è stata a fare la morale, ho scudetto, ho scudetto, ho scudetto, hai vinto 160 campionati estivi, hai vinto 180 coppie campioni birra moretti estive, hai messo a dire ho scudetto, ho scudetto, ho scudetto, ho scudetto, ho scudetto, cioè noi non possiamo sognare dopo 21 partite di fila positive, dopo una coppa vinta durante, ah no voi non ve ricordate queste cose, che stai rosicato, certo che stai rosicato, certo che ci ho creduto ma io lo sapevo che era così, cioè lo sapevo che tali schiavi che stai nel gioco contro una delle squadre più forti del campionato, ok? Che va a 2000, aperta e chiusa per entici e invece no, e invece l'italiota a medio deve fare, oppure a uno con la cosa dei Salvini cioè che poi finché mi insultate perché non mi taglia la barba va bene i capelli ma non potete capire per quale motivo quando io lo faccio queste cose perché non mi, le quisquiglie qui non, cioè io mi taglio la barba quando combatto per beneficenza ma voi, voi va, voi siete proprio poveri d'animo, vi fermate, vi fermate all'apparenza e come tali non vi meritate niente, anzi vi ho già concesso 5 minuti e 26 della mia vita, ciao, grazie, siete fantastici. Torniamo al campionato ragazzi, è un altro campionato, questo è un altro campionato, è un campionato dove prima quello di prima onestamente ci diceva tutto bene, questo è un campionato dove rischi che ti dirà tutto male, è un campionato difficile perché giochi ogni tre giorni, noi, cioè se la gente commentava pure, che c'entra delle coppie? voi siete talmente celebrolesi, con rispetto a chi veramente, da non capire che per la Lazio giocare ogni tre giorni dopo che eravamo usciti dalla Coppa Europa League è uno sfavore adesso, allora voi veramente siete, oppure siete ottusi e non volete capire cose, vabbè, io, comunque ragazzi, domani è una partitaccia, saranno tutte partitacce finché non iniziamo a carburare, anche loro non è che stanno bene, perché gli manca Casares, gli manca Chiesa, io, Braccino, lo odio da morire, anche quando mi hanno detto che voleva venire la Lazio, io, ragazzi, una persona del genere non la voglio nella Lazio, non la voglio, poi magari sicuramente a voi vi piacerà, però io purtroppo se ho fatto male, una persona del genere non la voglio nella Lazio, come non vorrei nemmeno l'amico Termustelide, io una persona del genere nella Lazio, che non mi rispecchia, niente, non mi rappresenta, io non ci voglio, ok? Sta gente, tenetela a voi, sta gente tipo Cassano, fatela giocare nelle squadre vostre, che giocano meglio, vi rappresentano meglio, capito? A me sta gente tipo, a me non mi piace, grazie, arrivo quarto, arrivo quinto, arrivo sesto, finché le coppette, sono contento uguale, almeno non mi posso specchiare. Adesso ragazzi, adesso è il momento che la caziali vi riescono, avremo tempo di commentare, avremo tempo di incazzarsi, adesso c'è l'unico tempo di far gruppo, poi è inutile che tiriamo, lo sappiamo ragazzi, cioè non è che in questi tre mesi abbiamo avuto far mercato, oppure sì non l'abbiamo fatto, è inutile, è inutile, porco Giuda, è inutile, è inutile adesso, lo capito o no? Che date solo adito a altri, è inutile, è inutile, ma l'abbiamo vista tutti, tutti vediamo, tutti abbiamo capito che dicevi, tutti, però è inutile, cazzo lo capite che è inutile? O siete coscio, porco Dio, è inutile, adesso dobbiamo fare gruppo, se volete romper cazzo, levatevi dai coglioni, c'è tempo per romper cazzo, ci sarà quei venti giorni tra questo campionato e quell'altro, ci sarà tempo, ma adesso è inutile per Dio, a meno che non aspettavate altro, allora se aspettavate altro siete degli infami, perché prima tutti belli e felazionati, mo adesso già avete rotto il cazzo, e voi dice uno che c'è una targa non indifferente dalla moto, e chi mi conosce lo sa che odio che c'ho, però adesso se volete bene, ragazzi, dovete fare pippa, dovete fare pippa, non capite? C'è non ci arrivate, siete proprio del goccio, dovete fare pippa, dovete fare pippa, e dovete fare per la Lazio, adesso per i laziali escono fuori, no, venti giornate, quindici giornate fa, ti chiediamo a vittor bravi, ammassa come il gioco al mago, ammassa, no, adesso i laziali escono fuori, se no, ve lo levate dal cazzo, se no adesso ve lo levate dal cazzo, perché noi, noi laziali, siamo sempre stati abituati a soffrire, noi abbiamo sempre lottato, se adesso a voi vi piace vincere facile, cercatevi un'altra squadra, eh? 40 anni, non è che gli scudetti hanno vinto un anno sì, un anno no, un anno sì, un anno no, quindi fatela finita, cercatevi, cercatevi, o fate pippa, o ve le fate dal cazzo, ok? Perché adesso non c'è assieme, non aiuta, eh? Non aiuta, insultare tutti, non aiuta, eh? Creare malumore, non aiuta, va bene? Quindi sveglia, perché noi voliamo e l'altro li strisciano, pure se si credono che stanno a camminare.